Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net Richiediamo bene intanto la moratoria che c'è stata votata in Senato di un anno e poi chiediamo che sia posto un termine drastico questa proliferazione selvaggia del gioco d'azzardo che crea grossi introiti per lo Stato ma grossi problemi anche di sicurezza e di salute pubblica a carico soprattutto dei sindaci, delle comunità locali che devono farsi carico di questi veri e propri drammi sociali legati alla ludopatia. Allora se da una parte la legalizzazione del gioco d'azzardo aveva come finalità quello di eliminare dal gioco la malavita dall'altra c'era quello di incassare, allora lo Stato sta incassando, la malavita comunque esiste lo stesso secondo me questo gioco alla fine fa comodo a tutti e chi ci rimette è sempre il povero cittadino in questo caso anche un po' stolto. Il dovere del governo è tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e dei valori di un paese civile. I sacrifici richiesti ai cittadini devono trovare risposta negli investimenti costruttivi volti salvaguardare le strutture fondamentali della società, in primo luogo quindi la famiglia. Il gioco d'azzardo è ormai considerato la maggior causa di ricorso a debito o ad usura o purtroppo molto spesso ad entrambi. La cura può e deve essere una sola, fermare il gioco d'azzardo legato alle slow machine. Qui noi chiediamo che questa mozione di impegnare il governo a varare in tempi rapidi anche attraverso l'utilizzo di strumenti normativi d'urgenza una moratoria di 11 mesi sul gioco d'azzardo online e sui sistemi di gioco d'azzardo elettronico in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Ringrazio che ha avuto la decenza di ascoltare. Grazie. 15 milioni di giocatori abituali, 3 milioni a rischio patologico. 800 mila giocatori già patologici. Chiediamo al Senato di far vedere che la politica può ancora avere un significato nel Paese e che non soggiace gli interessi economici. Su questo si vedrà la vera coerenza di questo Senato e dei senatori che qui siedono con il mandato popolare ricevuto. Qui si vedrà l'ipocrisia e noi saremo coerenti con il mandato che abbiamo avuto la nostra gente perché difendiamo gli interessi a partire dalle famiglie più deboli. Informati bene. Scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net Grazie a tutti.